Musica Buongiorno e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG di CronTV Un maltempo senza tregua sul nostro territorio, tanti danni registrati nel weekend e la settimana che è iniziata prevede ancora instabilità, sentiamo Un'ondata di maltempo che sembra non voler arrestarsi, quella che ha colpito il nostro territorio da qualche giorno Sabato una perturbazione proveniente dal milanese si è abbattuta nel tardo pomeriggio, prima nella parte cremasca e successivamente in quella cremonese con una tromba d'aria, grandine, pioggia e forti raffiche di vento che hanno provocato numerosi danni Alberi abbattuti un po' dappertutto, soprattutto nel cremasco, mentre diversi danni si sono registrati anche ad alcuni tetti La pioggia che è proseguita nella notte di ieri e a tratti per la giornata di domenica dovrebbe dare una tregua nelle prossime ore anche se il tempo rimarrà variabile per tutta la settimana Lunedì genero non solo per le nuvole ma anche per i pendolari alle prese con i soliti gravi disagi Stamattina tanti ritardi sulle principali linee Mauro Faversani Treni, la settimana non è iniziata certo nel migliore dei modi, almeno per i pendolari del solito Mantova, Cremona, Milano Un guasto ha provocato circa 50 minuti di ritardo sulla corsa 2650, quella in partenza alle 7.32 minuti da Cremona Oltretutto il viaggio è terminato a Lambrate, anziché in centrale, prevedibili malumori tra i viaggiatori ormai esasperati dal perdurare dei disservizi, ora per un motivo, ora per l'altro Ritardi intanto anche sulla linea Cremona-Treviglio, legati ancora al problema del binario unico che nel caso la circolazione subisca variazioni anche minime, comporta ripercussione a pioggia per chi si è costretto ad attendere il transito delle altre linee prima di poter partire Parola d'ordine dunque per tutti, attendere Cannabis terapeutica, la battaglia contro Salvini passa anche da Cremona, Viviana Sudati Nessuno tocchi la Cannabis Light, è rivolta sul web contro le parole del ministro dell'interno Matteo Salvini che ha lanciato la sua crociata contro i negozi che secondo lui vendono droghe e kit per farsela in casa. Quattro giorni fa LegalWeed, Mary Moonlight, CBWeed ha lanciato una petizione online sul portale Change.org alla quale ha partecipato Manuele Villa, produttore di canapa industriale piacentino e fornitore di numerosi punti vendita dal territorio cremonese Nella petizione che ha già ottenuto quasi 10.000 firme di sostegno, gli imprenditori chiedono al ministro una rettifica e un chiarimento in quanto scrivono Noi svolgiamo la nostra attività nel pieno rispetto della legge vigente Il nostro è un settore in crescita, prosegue in necessità di costante ricerca e innovazione per poter garantire prodotti certificati e di alto standard qualitativo Che sia un settore in espansione presto detto, sullo stesso portale è aperta una cinquantina di petizioni, la maggior parte pro legalizzazione L'ultima in ordine di tempo è quella dei malati con differenti patologie accumunati dal trattamento con cannabis ad uso medico che chiedono al governo accessibilità, gratuità e continuità nell'erogazione di farmaci Una petizione che in poco ha raggiunto 75.000 firme Fiumi secchi e panaro e il torrente tiepido sorvegliati speciali nel modenese per l'allerta a maltempo e la piena in transito considerata rilevante A Marzalia questa mattina alle 5 si è tenuta una nuova riunione del centro coordinamento soccorsi indetta dalla prefettura per fare il punto sulle misure precauzionali attivate I comuni più interessati dall'ondata di piena sono Modena, Campogagliano, Soliera, Bastiglia e Bonporto Per motivi precauzionali la popolazione è invitata a portarsi ai piani alti delle abitazioni Il sindaco di Campogagliano disposto già nella serata di ieri provvedimenti di evacuazione di residenti nell'area Valle della Cassa di Espansione chiusi diversi punti in provincia e disposta per ragioni di sicurezza la chiusura delle scuole di Sozzigalli, Bastiglia e Sorbara Sono intervenuto personalmente ieri sera per riattaccare i contatori è stato un gesto disperato c'erano oltre 400 persone senza corrente con famiglie e bambini senza neanche la possibilità di far funzionare i frigoriferi lo ha riferito il cardinale elemosiniere Korrand Krajewski braccio caritativo del Papa per i casi di disagio a Roma e non solo dopo aver riattivato la luce elettrica a spin time in un palazzo occupato a Roma via Santa Croce in Gerusalemme al buio e senza acqua calda dal 6 maggio non l'ho fatto perché sono ubriaco ha aggiunto Krajewski conto che l'elemosiniere del Papa è intervenuto per riattaccare la corrente in un palazzo occupato di Roma paghi anche i 300 mila euro di bollette arretrate ha commentato il ministro degli interni Matteo Salvini il ministero dell'energia dell'Arabia Saudita ha dichiarato che due petroliere saudite sono state prese di mira in un attacco di sabotaggio a largo delle coste degli Emirati Arabi Uniti hanno subito danni significativi il ministro Khalid Al-Fali ha detto che le due imbarcazioni sono state attaccate mentre erano in rotta verso il regno per essere caricate di petrolio greggio saudita da inviare negli Stati Uniti fortunatamente l'attacco non ha causato vittime né sversamenti di petrolio ma ha causato danni significativi alle strutture delle due navi ha dichiarato Fali gli Stati Uniti avevano diramato un'allerta alle navi avvertendo che l'Iran o i suoi delegati avrebbero potuto prendere di mira proprio il traffico maritimo nella regione il Pentagono dirotterà un miliardo e mezzo di dollari per il muro col Messico prelevandoli da programmi per i missili balistici intercontinentali per gli aerei OUOX che trasmettono messaggi e caccia in volo saranno utilizzati anche soldi inizialmente destinati ad un esperimento spaziale che coinvolge la Defense Advanced Project Research Agency e denaro di due fondi per supportare le forze di coalizione dell'esercito afghano in quel paese lo scrive il Washington Post che è entrato in possesso di documenti della difesa americana L'Italia di sciabola femminile vince la prima tappa del percorso di qualificazione per i giochi di Tokyo 2020 sulle pedane di Tunisi la squadra azzurra composta da Irene Vecchi Rossella Gregorio, Martina Criscio e Sofia Ciaraglia conquista la vittoria grazie al successo in finale con il putteggio di 45-42 contro l'Ucraina le azzurre che tornano al successo in una gara a squadre dopo quello del marzo 2018 ad Atene avevano conquistato il pass per la finalissima grazie al successo in semi-finale per 45-30 contro il Giappone e stasera ultima puntata della stagione per Rebar Sport Cremonese fuori dai play-off ma quello che si è concluso a Perugia è comunque un campionato positivo appuntamento alle 20 su Chrome TV questa edizione del TG finisce ma torna come sempre domani alle 13.30 a tutti voi un buon proseguimento di giornata arrivederci